Ieri sera bellissima renovation opening in Omotesandu a Tokyo, Omotesandu Street, del negozio E-Interiors. E-Interiors è un famoso negozio di design, di furniture, che esporta e promuove e presenta e vende mobili italiani, tra cui varie aziende ci sono la Bofi e la Depado. Ieri sera renovation opening dei primi due piani con le aziende Bofi e Depadova, come ho detto con la presenza delle star, il patron di Bofi e Depadova Roberto Gavazzi e l'architetto fantastico, maestro, maestro, Italia Master, Pierino Lissoni, tra l'altro che conosco abbastanza, che ho salutato, ringraziando di venire ogni tanto a far vedere la sua presenza in quel di Tokyo con i suoi prodotti disegnati meravigliosamente. Grande inaugurazione, dicevo, tantissima gente, tantissimi architetti giapponesi, chiaramente, stampa, molta stampa, qualche straniero, inaugurazione fantastica, un party, un catering favoloso, eravamo a Tokyo, chiaramente, potete immaginare, il food stupendo, ma i prodotti presentati molto bene, piccola conferenza, speeching dei due, intervenuti delle due star, come dicevo, Roberto Gavazzi e Pierino Lissoni. Grande, grande serata, come poi potete vedere qui sopra nello speeching delle parti di video che ho fatto, della serata e alcune foto, bellissime, finalmente delle aziende italiane che si muovono bene, catalvi stampati in giapponese e presenza in loco abbastanza assidua per poter promuovere i contatti, tra l'altro, fare i contatti con gli studi di architettura in un paese dove l'inglese viene parlato pochissimo, perciò bisogna spingere molto, molto con la promozione, la presentazione fatta bene ad hoc, da professionisti, quali sappiamo anche essere noi italiani. Grazie. 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 Grazie a tutti. Io ho anche un blog che in un blog per realizzare, Qual è l'ultimo dei forze? Come si deve? 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 Come si deve?